ehi curbo, possiamo fare forte, curbo ma lì fa, rompilo andiamo come, come, come ammazzate 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 occhio alla pista ciclabile fai ragazzi, giul indiaga indiaga la nuova marlinson gongu muay thai muay thai abbiamo ehm come si chiama? yaya ture yaya giul giul che duri che siamo che duri che siamo ehi misi ai ei 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 hi best numero 7 Ehi! Ehi! Nadia fotografa! se volete fare un video videomaker oh ridon ridon insomma domani on via a marseille fran si domani domani fran io vi capriol capriol hai preso col paliaccio che dice hey man zero red bull red bull dieci minuti red bull dieci minuti amdiyamu red bull dieci minuti amdiyamu gulli 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 beli ah gulli amdiyamu malibu beli beli gulli 102 Occhio 102 C'era dietro uno Con la bici alta C'è simba C'è simba C'è simba